Ciao a tutti, oggi volevo lamentarmi un po' di un aspetto che ho notato in molti giornalisti e commentatori politici che io vedo come una ristrettezza mentale, verrebbe quasi da chiamarlo provincialismo, anche se non è il termine corretto che in pratica li porta a non considerare o a considerare poco importante tutte le dinamiche internazionali, mondiali che possono stare dietro ad alcuni eventi nazionali. Mi spiego facendo un esempio. Per il referendum del 5 aprile, Marco Travaglio, che è un giornalista che io stimo moltissimo, è stato uno dei principali esponenti della campagna per il No. Due giorni prima del referendum, sul sito del Fatto Quotidiano, ha pubblicato due video della durata complessiva di quasi due ore in cui spiegava molto bene, peraltro, tutte le ragioni del No. Negli ultimi dieci minuti dell'ultimo video, proprio come ultimo punto, ha parlato di quali sono i motivi per cui questa riforma costituzionale è stata proposta, che sono la volontà dei cosiddetti poteri forti, un termine che non piace, sa tanto di complottismo, però in questo caso che ci siano dietro JP Morgan e tutti i grandi della finanza internazionale è un dato di fatto. Travaglio ha anche citato un intervento del giudice Roberto Scarpinato che ha parlato di questa cosa e fin qui tutto bene. Il problema è perché questo è l'ultimo punto? Quando Travaglio ed altri, molti altri esponenti del No, sono andati in televisione a parlare di questo referendum, o non hanno parlato di questo, o ne hanno dato davvero poca importanza. Ed è strano perché se, come anche riconosce Marco Travaglio, questa è la causa, è il motivo per cui questa riforma costituzionale è stata voluta, sembra strano che proprio la causa venga trattata come ultima, come un punto quasi poco importante. E lo stesso Roberto Scarpinato che ha fatto questo bellissimo intervento, dopo nella descrizione vi metto il link sia al video di Marco Travaglio che al documento di Roberto Scarpinato. Anche Roberto Scarpinato ha parlato dei poteri forti che stanno dietro questa riforma proprio alla fine del suo articolo. A me questo sembra molto riduttivo perché, prima di tutto, le cause sono sempre la prima cosa che dobbiamo analizzare, le cause di qualsiasi evento. Bisogna sempre chiedersi perché viene fatta una certa cosa o perché è stata fatta una certa cosa. E in secondo luogo perché non dobbiamo limitarci a guardare gli eventi con un'ottica nazionale così ristretta. Ci sono dinamiche internazionali, ormai con la globalizzazione, volenti o nolenti, è così. Siamo dentro un circuito che a volte ci chiede di fare alcune cose e queste cose devono essere spiegate ai cittadini perché altrimenti vedono questi poteri forti come qualcosa di mistico, quasi come un fantasma. Alcuni dicono che esistono, alcuni dicono che non esistono. Invece queste cose devono essere spiegate molto chiaramente. Questo è tutto quello che volevo dirvi per oggi. È tornata un po' di neve, ma tanto qua ci sono sempre i soliti alberi. Vi saluto, alla prossima, ciao!